Hai deciso di tornare? Sì, ma vorrei che tu fossi d'accordo. Non mi puoi chiedere questo, ma sì? Mi ha mai impetito qualcosa? No, ma se mi dicessi di non farlo, non lo farei. Hanno bisogno di me. Chi? I ragazzi. E ai figli tuoi non ci pensi? Certo che ci pensi, Rina, ci pensi. Ma, ma sì, ma stiamo parlando di un gioco. Rina, questo gioco è l'unica cosa che so fare nella vita. Questo è quello che pensi tu. Ma sì, Rina, ma i tuoi figli ti adorano. Tutti quelli che ti conoscono si innamorano di te. Ma sì, è l'unica cosa che s'è dice. Andrano, tu devi essere credo, mi credo. Ma sì, è l'unica cosa che è l'unica cosa che si parla di te. Grazie a tutti.